Ti sono grata perché mi hai presentata al Cenacolo dove ho ricevuto l'apporto. Commento Devi essere grata a te stessa perché è stato il tuo interesse per il contatto con i piani di esistenza superiori che ti ha fatto chiedere a me di presentarti al Cenacolo. La presentazione è stata una tua creazione. Grazie.